Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui torniamo a parlare dei cosiddetti America Bomber, cioè i progetti soprattutto tedeschi per un bombardiere strategico che fosse in grado di raggiungere l'America dall'Europa continentale, sganciare un carico di bombe possibilmente su New York e poi tornare indietro. Gli America Bomber furono diversi, ho recentemente dedicato un video al Mesh Smith ME 264 e altre ditte parteciparono a questo programma e una di queste era la Focke-Wulf. La Focke-Wulf pensò di partecipare al cosiddetto programma America bomber con un aereo chiamato Focke-Wulf TA400. TA è l'iniziale del cognome del progettista, del direttore tecnico della Focke-Wulf, ovvero sia Kurt Tank. La fonte che utilizzerò è questa una dispensa di aerei nella storia, i progetti segreti tedeschi, una interessante piccola e breve antologia ma molto completa sulle cosiddette macchine del filone Luft 46, ovvero sia prototipo, idee, disegni, programmi e perdite di tempo, diciamo le cose come stanno, della Germania nazista diciamo dal periodo, per il periodo che va dal 40 al 45 più o meno. Vengono chiamati Luft 46 questi aerei perché si immagina che se la guerra fosse continuata fino al 1946 sarebbero entrati in servizio. però sappiamo bene che si tratta più o meno di piglie illusioni. Il Focke-Wulf TA400 ha una genesi un po' particolare perché nel 1941 la Deutsch Lufthansa, ci scrive Nico Sgarlato, era alla ricerca di un aereo da trasporto a lungo raggio con il quale sostituire il Focke-Wulf 200 Condor sulle rotte transoceaniche. La Focke-Wulf rispose con un progetto chiamato FW 300 del quale nel 1942 lo RLM, il Ministero del Reich per l'aeronautica, allora perdonatemi il mio tedesco fa schifo ma si dovrebbe pronunciare Reich Luftfahrtministerium, abbiate pietà di me, io so leggere solo il tedesco delle etichette delle birre quindi mi trovo un po' in difficoltà. Dicevo, il Ministero chiese nel 1942 la conversione di questo aereo in un ricognitore strategico il progetto prevedeva quattro motori YUMO 222 da 2500 cavalli che avrebbero assicurato una velocità di 530 km orari e un'autonomia di 8800 km. In questa forma il progetto, come ricognitore strategico, lo FW 300 non andò avanti in quanto fu scavalcato dallo Junkers e F-100 che a sua volta però venne cancellato alla fine del 1941. Nel 1943 arriva la cosiddetta specifica per l'America Bomber, ovvero sia l'aereo che avrebbe dovuto decollare dall'Europa continentale, bombardare gli Stati Uniti, ripeto possibilmente New York, ripeto e tornare indietro senza scalo. La specifica prevedeva che questo aereo fosse in grado di raggiungere il continente nordamericano con 10.000 kg di carico bellico. Contratti di sviluppo furono attribuiti a Junkers, Messerschmitt e Focke-Wulf. Si trattava del secondo principale tentativo dopo la specifica del 16 maggio 1942. Porca, io voglio sapere perché mi impappino così. Oh, sante palle, scusate. Allora, dicevo. La specifica del 16 maggio 1942 era stata la prima per gli America Bomber e prevedeva la creazione di un aereo specificamente dedicato al bombardamento di New York. Oh, ce l'ho fatta. Questa specifica venne cancellata definitivamente il 14 marzo del 1943. Il progetto del professor Kurt Tank aspariva, ispirato al tristemente noto Heinkel HE-177 Greif, il grifone zoppo della Luftwaffe, mentre la propulsione era mista, affidata a 6 BMW 801D, dei quali quelli più esterni avevano nelle gondole anche un turboreattore YUMO. Il TA 400 doveva confrontarsi con il Messerschmitt ME264B, che abbiamo già visto in un altro video, e lo Yunkers 390A, i cui prototipi furono effettivamente costruiti. Di questo progetto vennero realizzati modelli per la Galleria del Vento e nel corso del 1944 furono avviate delle lavorazioni per la costruzione di un prototipo e, allarme spoiler, ci furono anche dei contatti conditte estere per la produzione. Come vedete questo è il modello del TA 400 per la Galleria del Vento, eccolo, eccolo. Questo è il modello per la Galleria del Vento del TA 400. Come vedete c'è una certa aria di famiglia con lo Heinkel 177, con il quale aveva alcune idee in comune. E questo è il Trebiste. Eccolo, notate i sei motori BMW con i due più esterni che hanno inserito posteriormente nella gondola un motore a reazione YUMO per dare un pochino più di spinta. Un aereo che denota una grande pulizia aerodinamica, un aereo che anche questo per certi versi ricorda vagamente, ma diciamo più che altro a livello concettuale, il Boeing B-29. Ma tenetevi forte perché c'è una cosa che probabilmente non sapete, anzi che diciamo ho scoperto grazie a questa dispensa. Allora, come abbiamo già detto, ne furono realizzati alcuni modelli per la Galleria del Vento, ripeto, eccone qua uno, eccolo qui, e furono avviate nel corso del 44 alcune lavorazioni per la costruzione di un prototipo e contemporaneamente, venne studiato un programma di produzione che coinvolgeva anche molte industrie in zone occupate dai tedeschi, come nel caso della Fiat. Aviazione, sì, la fabbrica italiana Autarchici trabiccoli, a quanto pare, venne coinvolta nella creazione di questo aereo qua, nello studio progettuale e diciamo avrebbe dovuto partecipare alla creazione di questo aereo. Ripeto, questo è il modellino per la Galleria del Vento. La fabbrica italiana Autarchici trabiccoli che partecipa alla progettazione di un bombardiere strategico per colpire l'America. È tutto bellissimo, ma vediamo un po' come nasce la storia e quanto è plausibile. Un accenno attribuibile al coinvolgimento italiano nella progettazione del TA400 si trova nell'autobiografia del professor Giuseppe Gabrielli, sì, la G di tanti aerei made in Fiat G50, G55, G59, G222, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, nell'autobiografia di Gabrielli si legge subito dopo l'8 settembre 1943 l'aeronautica tedesca affidò al mio ufficio progetti lo sviluppo di alcune parti dei disegni e dei calcoli di un grosso aeroplano. Un aereo ideato dalla Fokwulf per l'ambizioso compito propagandistico volare su New York dalla Germania e rientrare alla base in giornata senza scali. L'aeroplano avrebbe dovuto avere un'autonomia di 10.000 km. Una piccola equip di ingegneri della Fokwulf venne dislocata a Torino per i necessari contatti, ma come per la maggior parte dei progetti portati avanti in questo periodo nessun prototipo fece in tempo ad essere completato. Era un aereo dalle prestazioni, se vogliamo, fenomenali perché era prevista una velocità massima di crociera di 720 km orari. Come ha detto Gabrielli, l'autonomia doveva essere di 9 o 10.000 km e avrebbe dovuto portare circa 10.000 kg di bombe, forse qualche cosa di meno. Un progetto interessante, un progetto molto ambizioso, un progetto troppo ambizioso per la disastrata Germania del 1944. Come ho detto più volte, come ho ripetuto più volte, dal 43 al 45, quando si era ormai capito che la guerra per la Germania era perduta, insomma non giriamoci attorno, i tedeschi si erano resi conto sin dal 1943 che non era questione di se avessero perso la guerra, ma di quando l'avrebbero persa. E si buttarono con disperata frenetica e diciamo inutilmente frenetica energia nella progettazione, nella ricerca, nello studio di nuove armi che potessero cercare di ribaltare la situazione. Quando furono fatti i primi studi sul TA-400 la Germania era già ampiamente sotto il pugno di ferro delle aviazioni alleate che colpivano regolarmente e continuamente il territorio del Reich e i territori dei paesi occupati e degli stati satelliti. Italia, Francia, Francia, Francia di Vichy, Norvegia, Danimarca, Olanda, Belgio eccetera 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 eccetera. Il Reich non era un bel posto dove vivere, non diventò un bel posto dove vivere dal 43 in poi con, ripeto, continui e ferocissimi bombardamenti alleati. L'idea di sviluppare un bombardiere in grado di colpire l'America anche solo come arma propagandistica solleticò a lungo il ministero dell'aviazione tedesco, lo RLM, il Reichsluftfahrtministerium. Fatemi sapere se l'ho pronunciata giusta perché ripeto io ho delle grosse difficoltà con le pronunce tedesche, abbiate pazienza. Mi piacciono i Rammstein, leggo le etichette delle birre ma più in là non ci arrivo. Ok? Questo TA400 è un aero decisamente interessante. Sei motori più due reattori, un'idea che la Conver avrebbe poi in seguito ripreso per il B36 Pacemaker. No Pacemaker, Pacemaker. Mamma mia se mi sente John Mariani mi picchia con la mia pronuncia. Scusate. Scusate, mi sto... mi si inceppa la lingua, pronuncio male le cose. Sarà l'età che vi devo dire. Scusate. Dicevo, l'idea dell'America Bomber era un'idea che aveva un suo perché, ma che così tardi, perché ripeto parliamo del 43-44, era un'idea folle, era un'idea assolutamente inutile, era un'idea assolutamente irrealizzabile. Perché? Carenza di risorse, carenza di materie prime, difficoltà produttive, costi, 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 costi elevatissimi. Cioè sviluppare un bombardiere esa motore più in cui c'erano anche due motori a reazione. E ripeto, un bombardiere dalle prestazioni ambiziosissime, dato che si parlava di una velocità di crociera, ripeto, di 720 km orari, una velocità di crociera pari alla velocità massima in volo lineare delle ultime versioni del Mustang. Non so se rendo l'idea. Ecco, però insomma, grandi idee, grande ricerca, grandi ambizioni, ma 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 un ma grosso come lo stramaledetto Monte Bianco, ma la realtà oggettiva dei fatti sotto forma di Lancaster di notte e B17 e B24, Lancaster e Halifax di notte e B17 e B24 di giorno, questi programmi non li fecero mai, insomma, come dire, furono bloccati questi programmi. Era diventato impossibile studiarli, non studiarli, metterli in pratica, far alzare questi aerei dal tavolo da disegno dei progettisti. Non era possibile. Non c'era tempo, non c'erano risorse, non c'erano i tecnici, tant'è che dovettero rivolgersi alla Fiat. La Fiat, siamo sinceri, con tutta la stima che si può avere per il professor Gabrielli, non è che la Fiat fosse propriamente all'altezza del compito. La Fiat Aviazione era una industria piccola, arretrata, gestita con criteri autarchici e autocratici da parte dell'Ovina Famiglia e ancora di più da parte dell'ingegner Valletta. diceva bene, avrebbero dovuto i tecnici della Fiat, i progettisti della Fiat, avrebbero dovuto, come dire, obbedire, seguire le direttive dei progettisti tedeschi, ma io devo essere sincero, non ce li vedo molto i progettisti italiani a mettere le mani o a contribuire alla creazione di un aereo come il TA400. Però, ripeto, è una mia idea. Ammetto senza alcun problema di avere dei feroci bias cognitivi quando si tratta della Fiat, sapete bene che è difficile trovare un mio video in cui non parlo male della ferma di imbecille abbiamo tamponato. Però, ripeto, è interessante questa cosa. I tedeschi, che sono talmente tanto disperati, che sono talmente tanto presi dalla frenesia di sviluppare quantomeno un'arma propagandistica per colpire il suono americano, che si rivolgono ad una ditta non propriamente nota per la sua capacità innovativa e per la sua ricerca, ecco, per cercare di studiare, per cercare di porre, insomma, per cercare di progettare quello che sarebbe stato probabilmente un aereo molto, molto, molto interessante. ovvero sia questo, il Focke-Wulf TA-401 degli America Bomber. Come sarebbe stato? Avrebbe funzionato? Sarebbe riuscito a colpire New York? Non lo possiamo sapere perché, come vi ho già detto, fu un aereo che non si alzò mai dal tavolo da disegno. Gli studi con i modellini nella Galleria del Vento apparivano decisamente promettenti ma, 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 ricordatevi sempre che un conto è la teoria. Un conto è la teoria. Un conto è la pratica. E ricordatevi sempre, come è scritto nelle leggi di Murphy, che un grammo di applicazione pratica vale sempre più di una tonnellata di astrazione. Quindi, ripeto, c'è una cosa che mi fece arrabbiare un paio d'anni fa, circa, ovvero sia un imbecille che scrisse nei commenti di questo canale ha detto perché i progetti, i prodotti aerei, i carriarmati e quant'altro possono essere valutati soltanto su carta, possono essere comparati e valutati solo teoricamente. Ed è una cosa che tutte le volte che mi viene in mente cioè penso, ma veramente questo ci crede? Noi sappiamo bene che non è così. Sappiamo bene che la teoria è un conto ma sappiamo bene che la teoria sbatte spesso e volentieri anche in maniera molto dolorosa il proprio bel faccino contro la brutta e durissima realtà dei fatti. Insomma, il TA400 come sarebbe stato il TA400? Sarebbe stato un aereo buono? Sarebbe stato un aereo cattivo? Sarebbe stato un aereo funzionale? Sarebbe stato... Non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Il progetto era indubbiamente interessante. Il progetto era all'avanguardia per le capacità tedesche e, ripeto, aveva una parentela concettuale con il B29 ma mentre il B29 entrava in servizio ripeto, il TA400 non vide mai la luce. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi come sempre, come dice la mia lavagnetta iscrivetevi a questo accidente di canale e commentate, commentate, commentate qua sotto, commentate fatemi sapere che cosa ne pensate e aspetto le vostre considerazioni. Quindi, cari signori, un abbraccio fortissimo e, come sempre, ciao!